La Chiesa di Dio Onnipotente La Chiesa di Dio Onnipotente e non riusciamo a sentire la presenza del Signore. Che cosa sta succedendo? Ci capita di assistere a disastri sempre più gravi. Le profezie sulla nuova manifestazione del Signore negli ultimi giorni si sono avverate. Forse il Signore è già venuto e noi non lo sappiamo. Vi abbiamo invitato qui oggi per dare delle risposte a queste domande. Riguardo la desolazione nelle Chiese, voi cosa ne pensate? Vorrei sentire la vostra opinione. Sì, abbiamo bisogno di andare in fondo alla questione. Condividiamo quanto pensiamo. La domanda che hai posto è molto importante. Sappiamo tutti che viviamo alla fine degli ultimi giorni. Il Signore Gesù profetizzò e perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà. Quindi il mancato rispetto nel mondo della religione sta crescendo. I capi religiosi non rispettano i comandamenti, ma solo le tradizioni degli uomini. Predicano solo la conoscenza biblica per mettersi mostra e testimoniare se stessi. Non testimoniano Dio o non lo esaltano affatto e si sono allontanati dal Signore. Ecco perché Dio li respinge e li elimina. Questo perché il mondo ha perso l'opera dello Spirito Santo, ma anche perché il Signore Gesù è tornato nella carne iniziando l'opera di giudizio che ha inizio nella casa di Dio negli ultimi giorni. Mentre Cristo degli ultimi giorni, Dio Onnipotente esprime tutta la verità sulla salvezza dell'umanità per purificare chi accetta l'opera di Dio degli ultimi giorni. L'opera dello Spirito Santo si rivolge all'opera di Dio degli ultimi giorni. Chi accetta l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni riceverà l'opera dello Spirito Santo e il nutrimento dell'acqua viva della vita. Dio renderà vincitori coloro che ritornano davanti al Suo trono e li condurrà secondo la Sua volontà. Mentre quelli che si rifiutano di accettare l'opera di Dio degli ultimi giorni saranno lasciati nella desolazione oscura. Questo prova una profezia della Bibbia. E v'ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora tre mesi all'ammietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. Una parte di campo ha ricevuto la pioggia, la parte su cui non ha piovuto è seccata. Due o tre città vagavano verso un'altra città per bevere dell'acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me. Qui una parte di campo ha ricevuto la pioggia. Si riferisce alle chiese che accettano l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni. Hanno accettato le parole attuali di Dio e così hanno goduto del nutrimento dell'acqua viva che scorre dal trono. E la parte su cui non ha piovuto è seccata. Si riferisce ai pastori e agli anziani religiosi che non mettono in pratica le parole e i comandamenti di Dio e respingono e condannano l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni. Questo fa sì che il mondo sia rifiutato e maledetto da Dio, perda l'opera dello Spirito Santo e l'accesso all'acqua viva della vita e rimanga intrappolato nella desolazione. Come alla fine dell'età della legge, quando il Tempio pieno della gloria di Yahweh Dio rimase desolato. Il popolo ebraico non si attene alle leggi di Dio, furono compiuti i sacrifici impropri e il Tempio divenne un luogo di commercio, un covo di ladri. Quindi perché successe questo? Perché i capi religiosi ebrei non rispettavano le leggi di Yahweh Dio e non avevano il timor di Dio. Si attenevano alle tradizioni degli uomini, ma rispingevano i comandamenti di Dio. Si allontanavano dalla via di Dio e per questo Lui li maledisse. Ma un'altra ragione era che Dio si era incarnato per compiere l'opera di redenzione nell'età della grazia. L'opera di Dio era cambiata. Chi accettò l'opera di redenzione del Signore Gesù ricevette l'opera dello Spirito Santo e un nuovo modo di mettere in pratica la fede. Ma quelli che rifiutarono e resistettero all'opera del Signore Gesù furono eliminati dall'opera di Dio e caddero nella totale desolazione. Se volete ricevere l'opera dello Spirito Santo e ottenere il nutrimento dell'acqua viva, la cosa più importante da fare è cercare e indagare l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni. Questo estirperà l'oscurità nei vostri spiriti e la desolazione nella vostra chiesa. Non la pensate così? Ora tutto acquista un senso. È vero. Grazie a Dio. Dopo quello che hai detto, ho capito questo. La desolazione nel mondo religioso avviene perché i pastori e gli anziani non seguono la via del Signore, non praticano le Sue parole e non osservano i Suoi comandamenti. e in questo modo vengono rifiutati e maledetti da Dio. È perché Dio ha condotto una nuova opera e quella dello Spirito Santo si è spostata. Non abbiamo tenuto il passo con Dio e siamo caduti nelle tenebre. Dobbiamo cercare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Ringraziamo Dio. Ho chiamato in causa tanti pastori e nessuno ha saputo il motivo della desolazione delle chiese. Ma l'incontro di oggi ha chiarito tutto. Siamo stati illuminati dallo Spirito Santo. Si è ringraziato Dio. Tu dici che il mancato rispetto della legge è dovuto ai religiosi che non obbediscono ai comandamenti e che si sono allontanati dalla Sua via. Ma vediamo che i pastori e gli anziani sono persone che servono il Signore e sembrano uomini devoti. Perché mancherebbero di rispetto alla legge? È vero. Perché i pastori farebbero qualcosa che va contro la legge? Non bisogna vederla così. Insomma, i sacerdoti, gli iscrivi e i farisei nell'ebraismo erano persone che servivano Dio nel Tempio. Ma quando il Signore Gesù venne per condurre la Sua opera, incitarono gli altri a condannarlo. Sì. E arrivarono a cospirare con il governo romano per crocifiggerlo. Voi come lo spiegate? Oggi molti pastori e anziani non farebbero conoscere ai credenti il Lampo d'Alevante. Addirittura lo calunnano e lo condannano persino e denunciano i predicatori del Vangelo di Dio Onnipotente alla polizia. Non vi sembrano illeciti questi atti? Ve ne siete dimenticati? Fratello Ding ha appena parlato di alcuni atti illeciti. Quindi, a cosa ti riferisci quando dici che il mancato rispetto della legge aumenta? Ancora non lo capisco. Quindi vorrei che me lo spiegassi. Questo significa che quei capi religiosi, pastori e anziani si schierano contro Dio e vanno decisi per la propria strada. Inoltre, non seguono i comandamenti e interpretano male la Bibbia per incatenare e ingannare le persone, affogandole nella teologia biblica e allontanandole da Dio, trasformando le chiese in luoghi di rito religioso e utilizzando le loro responsabilità e doveri come accesso allo status e al denaro che causano molti atti ipocriti di resistenza a Dio nella chiesa. Molte persone si sono rivelate miscredenti, perseguono i piaceri del mondo allontanandosi da Dio e trasmettono le parole di Dio come se fossero favolette. Non credono affatto che il Signore Gesù verrà di nuovo per parlare e operare. Sono stati smascherati soprattutto quei capi religiosi e anche tutti quegli uomini miscredenti che non amano per nulla la verità e inoltre loro negano l'opera di Dio degli ultimi giorni. Questi pastori e anziani religiosi predicano la conoscenza e la teologia biblica. Si sforzano di proteggere la propria posizione, la propria influenza, ma si rifiutano di seguire la via del Signore o diffonderne la parola. Non esaltano affatto né testimoniano il Signore. Predicano invece cose che tradiscono la verità della parola di Dio e utilizzano le falsità e le tradizioni umane per ingannare e controllare le persone, invocando ostinatamente la via dei farisei della resistenza verso Dio. Molti pastori e anziani religiosi perseguono anche i piaceri del mondo, amano la moda, bramano il denaro e lottano per lo status. Sono solo uomini del mondo, veri miscredenti. La cosa più vergognosa è che questi capi religiosi, pastori e anziani utilizzano la condanna dell'opera di Dio negli ultimi giorni per ingannare e controllare i credenti e arrivano a cospirare con il regime del PCC, collaborando con Satana contro Dio, sforzandosi di creare i propri regni. E crocifiggere nuovamente Dio. Questo è il motivo per il quale Dio li odia e li maledice. Questi atti illeciti sono davanti agli occhi di tutti noi. Non sono altro che un tradimento del mondo religioso e a causa dell'aumento di questi atti illeciti, la fede e l'amore di molti credenti si sono raffreddati e i credenti si sono indeboliti e sono diventati pessimisti. Siccome questi capi religiosi hanno scelto la loro strada e non seguono più la via di Dio, l'opera dello Spirito Santo è stata ritirata e le sedi religiose sono state abbandonate. L'opera dello Spirito Santo si è spostata su coloro che accettano l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni. Qui vediamo che l'indole giusta di Dio non tollera offese da parte dell'uomo. Ciò che hai detto sono tutte cose vere. Non mi meraviglia che il mondo religioso sia così oscuro e desolato oggi. È perché i pastori e gli anziani religiosi hanno preso la loro strada e non seguono più la via del Signore, così Dio li odia e li maledice. Hanno accettato l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni e hanno spiegato perfettamente la ragione della desolazione nel mondo religioso. A quanto pare il Lampo d'Alevante possiede la verità. Indaghiamo. Abbiamo appena condiviso alcune delle ragioni per le quali il mondo religioso è così desolato. Ma questo era solo l'inizio. Avete anche chiesto cosa si intende per aumento del mancato rispetto della legge. A questo, sorella sua ha risposto appieno. E voi avete capito. Ora vorrei aggiungere il mio punto di vista sulle cause profonde della desolazione nel mondo religioso. Per prima cosa leggiamo due brani di Dio Onnipotente che ci aiuteranno a comprendere meglio le cause della desolazione nella religione. Dio Onnipotente dice «Porterà a compimento queste cose. Farà venire dinanzi a Lui tutte le persone dell'universo e farà in modo che tutti adorino il Dio in terra e la Sua opera in altri luoghi cesserà. E la gente sarà costretta a cercare la vera via. Accadrà come avvenne con Giuseppe. Tutti vennero a Lui per il cibo e si prostrarono davanti a Lui per questo. Al fine di evitare la carestia, le persone saranno costrette a cercare la vera via. L'intera comunità religiosa sta soffrendo una grave carestia e solo il Dio di oggi è la vera fonte di acqua viva, colui che possiede la fonte che scorre in eterno, fornita per il beneficio dell'uomo. E la gente verrà e dipenderà da Lui. Tutta l'opera di Dio nell'intero universo si è concentrata su questo gruppo di persone. Egli ha dedicato tutti i Suoi sforzi a voi e ha sacrificato tutto per voi. Ha rivendicato e ha dato a voi tutta l'opera dello Spirito nell'universo. Ecco perché dico che siete fortunati. Dio Onnipotente ha già chiarito la causa della carestia nel mondo religioso. Questo ci permette di vedere l'onnipotenza e la saggezza di Dio. Lui non ha abbandonato quelli che amano la verità e che hanno sete della Sua apparizione. Dio ha usato l'arrivo della carestia per costringerli a cercare la vera via e trovare la volontà di Dio e le Sue orme tra la desolazione delle chiese. Lo ha fatto per aiutare quelli di ogni denominazione che amano la verità e credono veramente in Dio per giungere davanti al Suo trono. Quindi Dio dice tutta l'opera di Dio nell'intero universo si è concentrata su questo gruppo di persone. Da questo possiamo vedere che l'opera dello Spirito Santo si è spostata presso coloro che accettano l'opera di Dio negli ultimi giorni. E questa è la riprova che Dio vuole che coloro che giungono al cospetto del Suo trono siano coloro che rimangono vicini al Suo cuore. Queste sono le persone che saranno rese vincitrici da Dio prima del disastro. E così saranno confermate le profezie del Signore Gesù sulle vergini sagge che partecipano al banchetto nuziale con l'agnello. Quanto alle vergini stolte, non importa quanto desolate o oscure diventino le loro chiese, quanto rimangano al loro interno e aspettino la morte. Sono come gli israeliti che morirono nel deserto dopo essere stati condotti fuori dall'Egitto. Tutto il mondo religioso è diventato un luogo in rovina, principalmente perché i Suoi capi seguono la via dei farisei e tradiscono le intenzioni del Signore, non seguono la volontà di Dio, non obbediscono ai comandamenti del Signore e sono stati abbandonati da Dio molto tempo fa. Attraverso la verità che Dio incarnato esprime negli ultimi giorni, viene smascherata la loro natura e sostanza di anticristi e diventano quelli che crocifigono nuovamente Dio e che Lui maledice. Qual è lo scopo di Dio nel far sì che il mondo religioso affronti la carestia? Vuole costringere le persone a cercare la vera via? Solo coloro che desiderano cercare la voce di Dio e che accettano l'opera di giudizio di Dio onnipotente negli ultimi giorni, riceveranno di nuovo l'opera dello Spirito Santo, il nutrimento dell'acqua viva della vita che scorre dal Suo trono. E infine verranno salvati e a loro sarà permesso di entrare nel regno dei cieli. Sono queste le persone che il Signore Gesù profetizzò che sarebbero state rapite e condotte nel regno dei cieli. Se neghiamo il giudizio, il castigo, la purificazione e la salvezza provenienti dalle parole di Dio onnipotente, saremo abbandonati ed eliminati in eterno. Ora leggiamo un altro brano di Dio onnipotente. Se ti opponi al Cristo degli ultimi giorni e lo rinneghi, non vi è nessuno che possa sopportarne le conseguenze al posto tuo. Per di più, da oggi in poi non avrai un'altra possibilità di acquisire l'approvazione di Dio. Anche se cerchi di redimerti, non contemplerai mai più il volto di Dio. Infatti, ciò a cui ti opponi non è un uomo. Ciò che rinneghi non è un qualche essere insignificante, ma Cristo stesso. Sei consapevole di questa conseguenza? Non hai commesso un piccolo errore, ma un crimine atroce. E perciò consiglio a tutti di non mostrare i denti davanti alla verità e di non avanzare critiche avventate, poiché solo la verità può portarti la vita. E nulla, tranne la verità, può consentirti di rinascere e di contemplare il volto di Dio. Le parole di Dio Onnipotente hanno autorità. Dio ha rivendicato tutta l'opera dello Spirito Santo in tutto l'universo e opera in mezzo a coloro che accettano l'opera di Dio Onnipotente. Ora capisco la causa della desolazione nel mondo religioso. Il Signore è già apparso per compiere l'opera di giudizio negli ultimi giorni. Quindi, dobbiamo cercare e indagare subito l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Sì, dovremmo indagare. Altrimenti, il Signore potrebbe abbandonarci e perderemo la salvezza di Dio. Se Dio Onnipotente è davvero la seconda venuta del Signore Gesù, dobbiamo accettare e obbedire subito all'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. È l'unico modo in cui possiamo ricevere il nutrimento dalla fonte delle acque vive e sfuggire alla desolazione e alle tenebre che abbiamo percepito in passato. Esatto. Abbiamo aspettato ogni giorno che il Signore venisse. Se il Signore è davvero tornato, allora possiamo essere rapiti e presentarci al Suo cospetto e tutti i nostri problemi saranno risolti.